La RUA dalla partecipazione ad amici all'arrivo a Sanremo Giovani 2018. Curiosità, componenti e tutto ciò che c'è da sapere sulla nota band. Il 20 e il 21 dicembre si svolgerà a Sanremo Giovani 2018 e dopo tanta attesa è finalmente stata resa nota la lista completa dei cantanti insieme a tutte le informazioni riguardanti l'evento. Tra i vari cantanti in gara troviamo una band che è sicuramente molto nota e tanti la RUA. Questo gruppo musicale, infatti, non è nuovo agli eventi legati a Sanremo ed il nome è anche molto conosciuto ai fan di amici di Maria De Filippi. I componenti della band hanno una bella carriera alle spalle e promettono grandi cose per Sanremo Giovani di quest'anno. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere su di loro tra curiosità, nomi dei componenti e loro storia dalla nascita ad oggi. Chi è la RUA band? Nascita, componenti e primi anni di carriera la RUA è una band musicale di genere pop folk formatasi nel 2009 ad Ascoli Piceno grazie al sodalizio tra Daniele Incicco e il produttore Dario Faini. E' formata da sei componenti che sono Daniele Incicco, Voce, Tamburo William D'Angelo, Chitarre Davide Fioravanti, Pianoforte, Fisarmonica, Glockenspielne Corfischetti, Batteria, Fx Alessandro Charlie Mariani, Beno Matteo Grandoni, Contrabbasso. Bassò si sono fatti conoscere nel 2012 partecipando alle selezioni di Sanremo e arrivando tra i primi 30 nel contest Sanremo Social. Hanno ricevuto anche il premio dall'Associazione Fonografi Italiani. Nel dicembre dello stesso anno sono arrivati i primi a dare a Sanremo. Nel 2013 hanno aperto l'unica data italiana degli Imagine Dragons a Milano, mentre il loro primo album è arrivato nel 2015. Si sono quindi esibiti sul palco del concerto del primo maggio e qui hanno vinto il premio come miglior gruppo nel contest 1 Mnext. La ruada amici a Cristina da Vena sempre nel 2015 sono entrati nella scuola di amici di Maria De Filippi durante l'edizione 15 del programma. E qui sono riusciti ad arrivare alla fase serale nella squadra bianca capitanata da Emma e Delisa. Una volta usciti dal programma a maggio del 2016, hanno firmato un contratto con la Universal e hanno pubblicato il loro secondo album. A dicembre dello stesso anno hanno partecipato a Sarà Sanremo, ma il loro brano è stato eliminato suscitando molta polemica. È diventato poi la sigla del dopo festival 2017.1 apostrofo al tra loro canzone, Il sabato fa così, è diventata la sigla del programma di Paola Perego Parliamone, sabato. Sempre nel 2017 si sono esibiti di nuovo al concerto del primo maggio e poi hanno iniziato il loro tour fino ad agosto. La band è stata scelta da Cristina D'Avena per duettare con il brano E' Quasi Magia, Johnny.esclamativo.larua Nel 2018 la band musicale ha pubblicato il 23 marzo 2018 il singolo sull'orlo di una crisi d'amore insieme a Federica Carta. Il brano è servito per presentare il nuovo album uscito poi in estate. Si tratta dello stesso brano scartato dal festival di Sanremo 2018. Partecipa a Sanremo Gioveni 2018 con il brano Alla mia età si vola. La Ruabend può essere seguita tramite il profilo Instagram che vanta oltre 80.000 follower. Novella 2000 copyright riproduzione riservata.